Percorrere in aereo la tratta Ancona-Parigi e viceversa, da oggi è possibile. Dal 27 maggio, per l'esattezza, il giorno individuato per la partenza ufficiale del collegamento internazionale tra il capoluogo delle Marche e la capitale francese. Un volo che sarà possibile effettuare sulle ali di Volotea, compagnia spagnola low cost delle piccole e medie città, per ben due volte a settimana, ad ogni martedì e sabato ad un prezzo vantaggioso. Dall'aeroporto delle Marche a quello di Parigi-Chart de Gaulle, dall'aeroporto Sanzio a quello di Londra-Gatwick, Un raddoppio in questo caso, visto che la capitale inglese è già raggiungibile con il volo Ryanair tutti i giorni ma allo scalo di Stansted. Con la compagnia EasyJet invece sarà possibile volare ogni lunedì e venerdì fino al 28 giugno, atterrando a sud di Londra. Due opportunità gradite dal presidente Aquaroli, che considera fondamentale per ridare centralità al territorio regionale. Finalmente si va a Parigi e soprattutto da Parigi si può volare in tutto il mondo, quindi per Ancona è sicuramente una data, per Ancona e per l'aeroporto delle Marche è una data da segnare con il rosso. Credo che immaginiamo la centralità che può trovare Ancona con i voli di continuità, con i voli su Parigi, con i voli su Londra. Questo significa certamente portare la nostra regione, il nostro capoluogo ad essere presente su dei mercati, su dei circuiti, dove fino ad oggi eravamo non solo assenti, quindi c'era precluso tutta una serie di opportunità. Oggi queste opportunità tornano ad essere tangibili e quindi dobbiamo essere bravi noi a costruire insieme all'Agenzia, con tutte quelle che possono essere energie, che possiamo mettere in campo le opportunità che poi dovrebbero automaticamente tornare sul territorio, concretamente con la crescita della nostra economia turistica, l'internazionalizzazione, la manufattura, i prodotti anogastronomici, tutte quelle che sono le opportunità che poi possono nascere e affermarsi. Parigi e Londra rappresentano due obiettivi raggiunti all'interno del bando regionale che prevedeva l'attivazione di nuovi voli all'aeroporto Sanzio. Un collegamento con l'Europa che può dirsi esteso ma non sul territorio greco, visto il passo indietro fatto da Volotea per la tratta Ancona-Santorini, previsto inizialmente all'interno del bando. Devo dire che Santorini era sicuramente una meta importante, però era più una meta importante come hub di partenza e non di ritorno. Invece noi parliamo con Parigi e Londra anche di una meta, un circuito di ritorno. Credo che il mercato che ci può aprire Parigi è un mercato che indirettamente non ci apriva Santorini. Con la nuova rotta per Parigi salgono a 5 le destinazioni raggiungibili da Ancona a bordo di Volotea. È infatti possibile decollare anche per Olbia, Catania, Palermo e Cagliari, rotta quest'ultima che tornerà ad essere operativa con due frequenze settimanali sempre dal 27 di maggio. Dall'aeroporto di Ancona, oltre alle 5 tratte percorribili con la compagnia spagnola, si può viaggiare alla volta di Londra, Bruxelles, Monaco, Bucharest e Tirana. Un'offerta che il Sanzo dall'estate 2023 amplierà di tre destinazioni, con i voli di continuità territoriali su Roma-Fiumicino, Milano-Linate e Napoli. Aspettiamo una risposta importante. Il combinato risposto tra queste rotte nuove internazionali che abbiamo lanciato in questi giorni, oltre ai nuovi voli di continuità territoriali su Roma-Napoli e Milano, ci permetterà di fare un salto fondamentale per quanto riguarda i flussi di traffico, sia in coming che out going, e che quindi darà una spinta ulteriore per poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi di piano di medio e lungo termine che ci siamo previsti.